Benvenuti in questa nuova puntata di Morbidi Passi, ciao Silvia, Corazone! Noi siamo la, la di matti e quando ti guardo lo voglio comprar con tante proposte da indossar e se condividi puoi pure sognar la più fortuna da chi c'erà e se tu sei nuova devi registrar il nome colore sul nostro WhatsApp su semplici passi iniziare da morti dei passi a comprare Morbidi Passi, moda curvi, qui noi toffiamo solo curvi perché si bella con le curvi, stravagante donna curvi Morbidi Passi, moda curvi, qui noi toffiamo solo curvi, se mi innamoro di una curvi Morbidi Passi, moda curvi, qui noi toffiamo solo curvi perché si bella con tante proposte da indossar e se condividi puoi pure sognar la più fortuna da chi c'erà e se tu sei nuova devi registrar il nome colore sul nostro WhatsApp su semplici passi iniziare da morti dei passi. Eccoci, buon pomeriggio Oggi faremo una bellissima diretta dedicata agli articoli nuovi, allo svuota tutto con tante novità e anche tanti fini serie. Oggi pochi articoli riguardanti gli accessori ci dedicheremo un pochino di più all'abbigliamento visto che siamo in fase di cambiamento di stagione e quindi cerchiamo di dedicarci un pochino più all'abbigliamento. Poi dalla prossima settimana riprenderemo anche con la nostra linea di accessori. Per chi comunque è interessato a collane, bracciali, portafogli, portachiavi, spille eccetera eccetera, trovate tutto pubblicato sulla nostra pagina Facebook e Instagram, principalmente su Facebook dove si vedono sicuramente meglio. Stamattina abbiamo fatto tutto un bel riassunto di tutti gli articoli nuovi, andate a vederli perché sono veramente delle cose tanto tanto carine, molto simpatiche. Allora io non vorrei perdere tanto tempo perché ripeto andremo tutti in bancarotta, non sto leggendo i messaggi però uno che ne ho letto ho letto andremo tutti in bancarotta. Sì, allora va bene ragazzi, da una parte mi fa piacere insomma perché comunque vuol dire che vi trovate bene con noi e a noi fa più che piacere insomma. Poi la vostra soddisfazione è per noi motivo di gioia, di soddisfazione anche nostra a nostra volta insomma. Allora io vorrei subito cominciare visto che siamo partiti un po' in ritardo, do qualche spiegazione per chi magari ci vede per la prima volta. Allora ragazzi noi siamo quelli di Morbidi Passi, io sono Silvia, abbiamo il nostro punto vendita qui ad Aprilia in via Giuseppe Verdi 69 in provincia di Latina vicino Roma. Se volete venire direttamente qui a trovarci in negozio i nostri orari sono da martedì al sabato 9.13, 16.19.30, la domenica è chiuso per il riposo settimanale e lunedì apriamo alle ore 17. Queste sono delle vere e proprie dirette di vendita, il mercoledì in versione ridotta, cioè è più dedicata alla vendita veloce, il martedì e il giovedì c'è anche il nostro speaker Carlo, la nostra modella curvi che indossa i capi, invece il mercoledì è una diretta un pochino più easy, un po' più leggera, leggera per modo di dire, comunque diciamo leggera. Ci occupiamo prevalentemente di taglie forti, in negozio però trovate anche la linea small, taglie forti a partire da una 46-48 fino a una 60-62 circa. Se volete acquistare direttamente in diretta, ragazzi la cosa più importante che dovete fare è quella di registrarvi al nostro numero whatsapp, che è questo qui 338 23 21 430, registrarvi vuol dire che ci mandate prima del primo acquisto che decidete di fare il vostro nome e cognome al nostro numero whatsapp. Se non avviene questo noi non possiamo accettare la vostra prenotazione, quindi prima vi registrate poi potete cominciare in tranquillità e in serenità i vostri acquisti. Per quanto riguarda le spedizioni in Italia, isole comprese, sottolineo questo perché all'estero è tutta un'altra situazione e ne parliamo in privato per chi è interessato e per chi ci segue al di fuori dell'Italia. Allora dicevo per la penisola il costo della spedizione è di 6 euro con ricarica post pay bonifico paypal, 8 euro con pagamento alla consegna. Attenzione, tre piccole precisazioni, doveroso farlo. Primo, se superate i 50 euro di ordine la spedizione non si paga. Chiaramente ragazze se ci volete aiutare a venire incontro ci fa comodo e piacere il pagamento anticipato, ci fa lavorare sicuramente meglio. Secondo, se è il vostro primo ordine mi raccomando ragazze potete pagare alla consegna ma non potete superare la cifra dei 100 euro. Quindi al di sotto dei 100 euro possiamo accettare il pagamento alla consegna, al di sopra dei 100 euro no. Poi mano a mano che ci si conosce in realtà potete fare come preferire. Guarda c'è Carlo che ci assiste da remoto praticamente. Ciao Carlito! Quindi dicevo fino a 100 euro pagamento alla consegna, al di sopra dei 100 euro soltanto con pagamento anticipato. Questo per la prima volta. Poi ripeto ci si conosce e tutto cambia. Altra cosa importante, terza e ultima cosa importante, se decidete di fare il pagamento anticipato, dal momento in cui si chiude il vostro pacco, massimo 24-40 ottobre, dobbiamo ricevere il pagamento. Altra cosa importante, vi diamo la possibilità di fare i cambi, chiaramente il costo del cambio è a carico vostro. Non cambiamo la merce estremamente scontata, quindi attenzione, e non effettuiamo rimbozzi. Poi la cosa importante, e sottolineo sempre, vi diamo la possibilità comunque di tenere un pacco aperto dall'inizio alla fine della settimana. Questo cosa vuol dire? Che vi diamo modo di vedere le tre dirette che facciamo a settimana, del martedì, mercoledì e giovedì, sempre alle ore 16. Noi non cambiamo mai. Sempre alle ore 16, dicevo. In più potete anche acquistare tramite le foto che pubblichiamo sui social o anche facendo dei semplici screenshot della diretta. Magari voi non vi siete potute collegare, non c'è problema. Anche dopo la diretta potrete comunque continuare ad acquistare su Whatsapp. Ultima cosa e poi giuro finito. Ragazzi vi ricordo che martedì 1 novembre è un giorno di festa, ma noi saremo qui per voi e faremo una bellissima diretta particolare, direi. Tutta un po' concentrata sui saldi, su delle occasioni, quindi ragazze anche se è festa mi raccomando seguiteci anche il primo novembre, martedì 1 novembre, sempre alle 16. Fermo restando che ci vediamo anche nella diretta di domani, ok? Detto ciò io direi di cominciare. Vediamo un po', abbiamo superato le 100 persone, vabbè, tanto all'inizio si sa che si parte pian pianino. Allora ragazze io partirei subito con, ragazze ciao a tutte, coloro che non ho salutato, scusatemi ma durante le mie preghiere quotidiane, prima a inizio diretta non posso leggere i messaggi e non posso salutarvi, ma vi mando un abbraccio a tutte quante. Allora ragazze io vorrei partire con un articolino nuovo, questa è una casacchina in cotone, prezzo 14,90 euro, manichina lunga, quindi per chi non vuole un tessuto troppo pesante. Ciao Silvia, ma la maglia che indosso è in vendita? No Rosalia, ultimamente non indosso capi in vendita, ok ragazze? Perché comunque in questo momento no, quindi atteniamoci soltanto a quello che vi mostro, non quello che indosso io. Allora ragazzi dicevo, casacchina, ciao ragazze a tutte quante, casacchina prezzo 14,90 euro, ripeto in cotone garzato, non pesante, seno 140-180, fianchi 130-180, lunghezza 70 cm. Ragazzi 14,90 euro, abbiamo tanti colori disponibili, tra cui il blu royal, il blu scuro, poi il ciclamino, io vedo già qualche persona che si sta registrando, poi mano a mano magari vediamo i nomi. Allora, ottanio, ottanio o petrolio ragazzi, chiamatelo come preferite, ma tanto molti di voi lo chiamano petrolio, ma tanto la stessa cosa. Color coccio, anche se il petrolio mi dà di più scuro di ottanio, vero? L'ottanio è più così, il petrolio quando è proprio scuro, scuro, mia, blu elettrico e se c'è nera, assolutamente sì. Allora ragazze, i colori che stanno andando via si possono ordinare, quindi non vi spaventate del fatto che stanno andando via i colori. Come si chiama? Rosalia Cardinale. No, 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 tizzi, metti il codice, 41, non so che definizioni dà, mettici un codice o qualcosa. Sì, sì, se mi arriva l'ordine lo inizio a scrivere. Allora, dicevo ragazzi, anche il nero l'avete visto andare via, ma c'è comunque a disposizione, il blu elettrico si può anche ordinare, poi abbiamo il ciclamino, già ve l'ho mostrato, il viola, un bel viola intenso, ecco qua un bel verdone, un color panna, un rosa e l'ultimo colore che è un ginsato, ok? Ma chi è? Leonica? Leonica, io purtroppo non so come fa per spedizione, parliamone in privato, ragazze, non mi chiedete cose personali, soprattutto un qualcosa che avete spedito voi a me, ma in diretta, non ha senso ragazze, dovete scrivere in privato, non... Stefania chi? Io non la leggo, ragazze, Stefania? Anco noi, eppure c'ho pure il mio, eh? Ragazze aiutatevi, suggeriteci chi è Stefania, Carlo, tu hai messo un pochino? Intanto me la dai viola per Monica Ferrara? Sì? Io ti do anche il coccio per Stefania, ma non so chi Stefania sia, ragazze, qualcuno che legge il messaggio di Stefania ci può suggerire il suo... Sirianni. Ah, Sirianni? Ok, perfetto, grazie Antonella. Verdone per Elisabetta Tinelli-Crosato, eccola, ragazzi, i colori si possono ordinare, ripeto il prezzo, 14,90 euro, vi ridò le misure, eccole qui ragazze, seno 140-180, fianchi 130-180, lunghezza 70, ok? Prezzo della casacchina, ripeto, questo è un articolo non pesante, non eccessivamente... Oddio, Stefania, che stessi... Sì, sì, abbiamo letto, ragazze. Ok? Chi? Sirianni? Ok, abbiamo fatto, sì. Ragazze, jeans, rosa, panna, ciclamino, nero, ottaneo, blu scuro e viola. Ragazze, poi si può ordinare anche il verdone o il blu elettrico, intanto questi sono i colori disponibili, ripeto ragazze, 14,90 euro, molto carina, semplice. Stefania, le brisco jeans, molto semplice. Direi una casacchina basica, insomma, manichina lunga, basica, tessuto elastico, morbida. È un cotone, però, chiaramente, non è una lanetta tipo caldo cotone, però è comunque un cotone un pochino più invernale, non parliamo di quello leggerino, estivo, fino, fino, ok? Una sorta di via di mezzo. Francesca, ieri non c'erano? Sì, Francesca, c'erano, e come? Il problema è che in negozio magari non tutto si vede, non tutto è lampante. Monica Ferrara, viola, l'abbiamo messo, grazie Maddalena. Allora, ragazzi, io li appoggio un attimino qui e voglio andare avanti presentando Panna per Gioia. Ciao, Gioietta, eccola fatta. Allora, aspetta, salutiamo questa nuova amica, mandiamogli anche la signora Ida Paduano si è registrata, Guadino Lucia. Salutiamo tutte queste nuove amiche che si stanno registrando su WhatsApp. Grazie, ragazzi, e benvenute a tutte le amiche nuove, eh? Allora, faccio rivedere un'altra volta i colori e poi vado avanti con il prossimo modello. Intanto queste le lascio qui, così potete tranquillamente rifletterci. Allora, dicevamo, 14,90 euro, colori disponibili. Viola, blu scuro, ciclamino, vado un pochino più piano, ragazzi, inizio diretta perché vedo che molte persone si stanno registrando ora e stiamo salendo con le visualizzazioni, quindi vado un po' più piano, poi magari acceleriamo andando avanti. Allora, nero, l'ottanio, eccolo qui, e il rosa, 14,90 euro. Che succede? Speriamo che oggi Facebook ci accompagni, insomma. Già che vedo che più di qualche messaggio non leggiamo, la cosa non è tanto positiva, però speriamo bene. Allora, poi ragazze, volevo mostrarvi un nuovo maxi, guardate ragazze, una sorta di maxi mini dress, maxi camicione, molto carino. Direi un abitino più che un maxi camicione, però l'effetto è quello, da portare con un cintone, una catenella bassa un po' tipo questa che indosso io, oppure anche semplice così, come una sorta di tunichetta, scollo a V, il prezzo è di 19,90 euro, si confermo. Andiamo con le misure, 120 fino a 142 di seno, fianchi invece partiamo da 140 e arriviamo a 162. La lunghezza, abbiamo un 96 circa davanti e circa un 110 più o meno dietro. È un mini dress comunque da considerarsi, perché comunque è un bel camicione ampio, grande, però piuttosto lungo direi. Allora, come colori, queste non le avete numerate? Io faccio queste come le chiamo, strisce larghe, queste però, allora... Metto i numeretti veloci? Eh, sì, più che altro anche per loro, se no cominciamo con le definizioni, strisci grandi, strisce piccole. Allora ragazzi, datemi un secondino che ci siamo dimenticati di mettere i numerini su questo mini dress, tanto ci mettiamo un secondo perché così magari è anche più semplice la descrizione. E io invece approfitto e vado avanti con un altro articolino. Ragazzi, abbiamo messo un attimo in stand-by il camicione abito di poco fa e presento un altro articolino. Poi ritorneremo su quello, il tempo ecco di numerare le fantasie che c'è un po' sfuggito. Allora, adesso abbiamo invece una sorta di felpa molto carina con l'accetto sotto che si può stringere e ottenere così come meglio preferite naturalmente. Il prezzo è di 19,90€. Guardate che carino il disegno davanti, un po' lucido. Il giro seno, parliamo di... Ah, giro seno e giro fianchi corrisponde, quindi 120-180 sia di seno sia di fianchi. Che succede? E lunghezza 70 cm. Ok? Quindi seno fianchi 120-180, lunghezza 70. Prezzo 19,90€. È in cotone garzato, quindi non è pesante ragazze. E attenzione, perché purtroppo, non so da voi, vabbè, voi siete un po' in tutta Italia, ma qui da noi ancora il caldo si fa sentire e stiamo promenendo un po' in un po', sia così un pochino più leggero, così un po' più pesante. Cerchiamo di, diciamo, spaziare un pochettino, insomma, dare un po' modo a tutti quanti di potersi vestire a seconda di dove si trovano. Allora, per quanto riguarda questa, chiamiamola felpa, perché comunque questa è bordo, Poi abbiamo il colore bianco, il nero, guardate che carina la stampa sul nero e sullo scuro, chiaramente si nota anche di più. Poi abbiamo il verde Gucci, le magliette dentro di te, prezzo. Maria Luce, se parli di quelle di prima, che stavamo presentando prima, 14,90 euro, questi sono i colori disponibili, ok? Rosa, ottaneo, nero, ciclamino, blu scuro, viola, nero e ciclamino di nuovo, ok? Poi, continuo un attimino con la felpa che adesso ho in mano, abbiamo il coccio, l'ottaneo anche qui, queste qui che sto presentando ora, invece, 19,90 euro, poi abbiamo il ciclamino, che noi credo che l'abbiamo fatto vedere, dimmi? Paco è arrivato, tutto ok, ISA VIP, 70 euro. Ah, ok, perfetto, mi fa piacere, ottimo. Allora, ragazzi, questo era l'articolo di prima, lo faccio rivedere per Maria Luce Berrotta, questo era l'articolo a 14,90 euro, questo che abbiamo presentato ora è una felpetta, ripeto, in cotone calzato, tessuto elastico, 19,90 euro, vi ridò le misure, ho perso quelle, ah, eccole, vogliamo rimettere queste qui, così se mi richiedono ci sono. Allora, ripeto, ragazzi, la felpetta in cotone calzato, 120-180 di seno, fianchi stessa misura, lunghezza 70 centimetri. Per quanto riguarda, invece, per chi non era collegato, quella precedente a 14,90 euro, abbiamo un pochino il modello leggermente a pipistrello, seno 140-180, fianchi da 130, leggermente meno, comunque però arriviamo sempre alle soglie dei 180, la lunghezza 70 centimetri, ok? Chiaramente la felpa, io vi consiglio di indossarla magari con un sottotuta, un pantalone sicuramente sportivo, un jeans o qualcosa comunque che va sullo sportivo, mentre l'altra, insomma, è un articolino basico da poter usare in diverse situazioni. Eh, Tiziana, ce l'ho anch'io le bollette, tanto sto periodo. Allora, poi ragazze, andiamo su una cosina nuova. Non ho lasciato, Mimmi. Ciao, tesoro, sono quattro volte che ordino, ma mi salto. Digliolo tu che hai più amicizia, grazie mille. Non ho capito. Forse non è il nuovo... non la vediamo. Non capisco, Menuccia. Si sta facendo aiutare da Valentina a Saccioli. Ciao, tesoro, sono quattro volte che ordino, ma mi salto. Forse non la vediamo. Digliolo tu che hai più amicizia, grazie mille. Menuccia, ma noi adesso abbiamo letto questo tuo messaggio. Finora non sei mai comparsa. Ragazze, consiglio personale. Se vedete che noi non vi leggiamo su Facebook, non è perché non vogliamo farlo, chiaramente, ci mancherebbe altro, ma è perché non ci compaiono magari i messaggi di determinate persone. Quindi, per favore, per chi? Per Menuccia? Ma di che cosa, però? Della felpa o della casacca 1490? Ragazze, scrivete se la felpa o la casacca basica. Ho letto, mi ottenio e basta. Ragazze, cercate di essere più chiare però quando è ordinate, perché sennò io non capisco. Non so... Vabbè, intanto l'ottanio ce l'ho. Io il fogliettino l'ho fatto, vediamo. Non lo so, non lo so. Allora, se Menuccia... Ripeto, per chi vedete che non vi leggiamo su Facebook, scriveteci su WhatsApp. Magari uscite un secondo dal diretto e scrivete su WhatsApp. Tanto noi abbiamo anche il WhatsApp aperto, proprio per chi non riusciamo a leggere su Facebook. Perché purtroppo per molti c'è ancora questo problema di WhatsApp che non funziona correttamente. Ho ordinato la casacca, la prima presentata. Ah, ok. Quindi Menuccia, tu hai ordinato quella da 14,98 anni. Ci siamo riusciti, perfetto, va benissimo. Ok. Sì, Germana, abbiamo delle tute. Ragazzi, aiutateci se vedete che non leggiamo i messaggi di qualsiasi. Fatto, ragazzi, grazie mille. E soprattutto chi vede che non leggiamo ci deve scrivere direttamente su WhatsApp. Così è sicuro che ce la facciamo. Ok? Sì, Claudia. Mi leggete? Sì, sì. La via Orte di leggiamo tranquillamente. Allora, ragazze, abbiamo presentato già finora il primo articolo che era a 14,90 euro, il secondo articolo a 19,90 euro, in versione felpa, a 19,90 euro. E adesso andiamo invece su un articolino nuovo, che è un articolo a costine, con cerniera davanti, scolla V con cerniera. Il prezzo è sempre di 19,90 euro. Anna Pantaleo. Anna Pantaleo. C'è un articolino, ok? Grazie, ragazze. Grazie, Alessandra, per aver fatto risalire il messaggio. Ok. Ragazze, scrivete su WhatsApp se vedete che non leggiamo i vostri messaggi. Scrivete su WhatsApp. Ci siamo apposta. Ora che hai scritto così, Carmen, ti leggo. Eh, infatti. Quando scrivono le prenotazioni non si leggono, quando scrivono messaggi che magari non sono importantissimi, quelli sì. Allora, ragazze, andiamo su un articolino nuovo, dicevo, a costine, casacchina, leggera. Ciao, Nella. Allora, prezzo 19,90. Elena è arrivata. Ok. Seno 110, 170. Fianchi mi parte da un 120 e arriva anche a 180. lunghezza 75, ok? Allora, 19,90. Casacchina con cerniera molto carina a costine. Chiaramente potete regolarla. Colori disponibili. Il nero. Il ciclamino. Poi abbiamo il rosso. Ragazzi, se vedete che non leggiamo altre persone, aiutateci così. Blu scuro. Color jeans. Ecco qua. Color jeans. Color coccio. verde gucci. Sì, quando hai un attimo, leggi il messaggio, se ne finisce, grazie. E ciclamino. Rosalia, per la collana non c'è problema, questa va su prenotazioni. In questo momento non ce l'ho oggi da farla vedere. Quindi tranquillamente ne parliamo un altro momento, ok? Domattina magari. Intanto ho visto che mi hai mandato. Allora. Gli ultimi due colori. Parliamo. A me si blocca, dice. Speriamo bene oggi. Allora, grigio e panna. e abbiamo terminato la sequenza dei colori. Ok? Io vedo come si arrivano male, lenti. A voi qual è l'ultimo? Giù si la piava? Che dici che si blocca? Ok. Allora, ragazze, casacchina, ripeto, 19 e 90, con cerniera. Ripeto le misure. Seno 110 fino a 170. Fianchi mi parte da un 120, arriva a un 180. La lunghezza 75. 19 e 90. Abbiamo fatto vedere tanti colori diversi. Ripeto, tra cui il nero, il ciclamino. Li faccio rivedere, ragazze. Il rosso. Il blu scuro. Color jeans. Coccio. Verde gucci. Il nero abbiamo fatto vedere. Il panna. E l'ultimo colore, che è un grigio. Ragazzi, Michela Piccolo voleva una viola, credo casacca. L'ha già scritto, ma mi sa che non vi arriva. Michela Piccolo, scrivimi in privato se ci stai ascoltando. Dicci di che cosa parli. Quale casacca c'è la mia? Ah no, viola dice. Beh, viola probabilmente è questa, perché è l'unica che c'è. Michela Piccolo, mi confermi che è questa qui? Michela Piccolo, mi confermi che è questa quella viola che volevi, perché purtroppo non si capisce nulla. Perché Alessandra la Barbera ha messo i puntini? Per farvi salire il mercato. Per farvi salire il mercato di Michela? Ok, vabbè, vediamo un po'. Però Michela, se non riesci a scrivere nella diretta, che non ti leggiavo, scrivimi su Whatsapp. Dammi conferma se è quella la casacca che volevi, ok? Eh, ma c'è solo quella. Eh, penso anch'io. Si sente la musica. Vabbè, non credo che ci bloccano, è minima. Maglia con cerniera, Verde Cucci, Erika Caldizzi. Eh, Verde Cucci ha detto? Grazie Erika, fatto. Ragazzi, allora, primo outfit, primo, diciamo, articolo del pomeriggio, la casacchina a 14,90 euro, che abbiamo chiamato basica. Diversi colori disponibili. Poi abbiamo fatto vedere, invece, la felpetta, sempre in cotone garzato, a 19,90 euro, sempre una vestibilità piuttosto grande. E l'ultima cosa che abbiamo fatto, Michela Piccolo ha confermato, ok? Grazie Michela. E l'ultimo articolo, il terzo del pomeriggio che abbiamo fatto vedere, è la casacchina con cerniera a 19,90 euro. Anche questa disponibile in tanti colori diversi. Faccio un attimino i gruppetti e proseguo con il prossimo articolo. Allora, il prossimo articolo, ragazze, invece, è l'abitino che stavamo presentando poco fa. Allora, ripeto, è un maxi camicione. Sì, Maddalena, posso? Grazie. Allora, maxi camicione con seno 120 fino a 142, fianchi 140 fino a 162, lunghezza circa da 100 a 110 cm, perché davanti è leggermente più corta. Magari, Valentina, però non tocchiamo questo argomento a inizio diretta perché è ancora lunga. Meglio di no, dimmi di. Giusei Laviana, non ho visto l'inizio di che materiale è questa casacca senza cerniera. Questa qui, senza cerniera, è in cotone. Cotone, ragazze, non è pesante, ok? Perché comunque per il fatto che sta facendo molto caldo, abbiamo ricominciato, visto che comunque stanno arrivando anche articoli nuovi, sempre comunque non troppo pesanti, stiamo ricominciando ad acquistare un po' di cosine, comunque manica lunga ma leggera, perché effettivamente fa proprio molto caldo. Allora, ragazze, abbiamo per quanto riguarda l'abitino, fantasia numero 1, a righe, poi fantasia numero 2, base bianca con le righe un pochino più sottili, poi base 3, la 3, quella è di diversa, base 3, 3 bis, 3 bis, ragazzi, perché metteci una B, perché abbiamo sbagliato, le righe cambiano, ok, 3 bis, bis, la venuta, poi la numero 4, e questa ha una base blu con i disegni rossi, poi la 5, potrei fare un cambio, posso prendere casacca a 19,90, anziché quella di 14,90, sempre jeans, allora, sempre jeans, quella 19,90, quale sarebbe? Questa con la cerniera, giusto? Non è l'altra. Puoi fare un cambio, posso prendere casacca a 19,90, anziché, Stefania, ma intendi dire questa qui con la cerniera, oppure quella a felpa, con la felpa? Dici se, cerniera o felpa? Ragazzi, il prezzo di questo abitino, maxi camicione, è 19,90. Cambio, 3 casacca a 19,90, eh sì, non ha specificato, quindi vediamo com'è. Allora, dicevo ragazzi, allora, mi son fermata alla... Quella con la cerniera. Sì, quella con la cerniera, ok, quindi era quella lì, a posto. Fatto Stefania, abbiamo fatto la sostituzione. Allora, ragazzi, ricapitolo un attimino, Fantasia numero 6, con le stelline. Poi, Fantasia numero 5, a po' a. Fantasia numero 4, di nulla Stefania, tranquilla. Fantasia 3 bis, che ci siamo resi conto, la 6 per Anna Di Marco, eccola. Poi, allora, dicevo, la 3 bis, la 3 normale, poi la numero 2 e la numero 1. Io sto morendo di caldo, ma sono un tiratore... Eh, un macello, eh. Anche la 4. Eh? Che andava? Prendi anche la nera con cerniera, Mayra, per Salinaro. La nera con cerniera, eccola, per? Salinaro. Ok, allora, Antonella Salinaro abbiamo data, Anna Di Marco la 6 e anche la 4. Perfetto, va benissimo. Vediamo qui, c'è dei messaggi. No, ok. Ci sono, eh, arrivo subito, che ho un po' di messaggini. Ok. Oggi pure tanti pacchi consegnati, eh? Allora, ragazze, ricapitola un attimino per quanto riguarda il maxi camicione o abito, come preferite chiamarlo, chiaramente in tessuto di viscosa, leggero, ripeto, le misure sono piuttosto grandi perché superiamo i 140 di seno e superiamo i 160 di fianchi. Di media siamo intorno ai 100-110 di misura di lunghezza, perché il davanti è leggermente più cortino, il dietro leggermente più lungo. Allora, c'è rimasta la fantasia numero 1, fantasia numero 3, ah, la fantasia numero 2, scusate, pensavo che... Numero 2, numero 3, poi c'è la 3 bis, perché cambiano leggermente le righine, la numero 5, a pua, e l'ultima, che è la numero 6, con le stelline. Ok? Ragazzi, questo era tutto a 19 e 90. Proseguo, vado avanti con un altro articolo. piccolino. Ok, aspettate un secondino. Ok, ci sono. Allora, vado avanti con un'altra... Ah, aspetta, volevo fare l'offertina di questi qui. Eccolo. Ragazzi, piccola offerta, piccola non direi comunque, però, altra offerta, abbiamo il nostro scaldacuore in chiffon, sapete, adesso cominciano comunque tra un po' le cerimonie, arriva il Natale, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo deciso di scontare a metà prezzo, al prezzo di 7,90 euro, metà prezzo, questi scaldacuore in chiffon. Chiaramente, ragazzi, qui non vi posso dare le misure, perché, come vedete, è una mantellina, ve le faccio vedere un'altra. Vedete, ma questa è diversa? Ah, la presentiamo, è di quell'altra? No. No, è perché c'è la stampellina fina. Quella di quell'altra. Vabbè. Ah, sì? Eh, sì. Allora, vedete, ragazze, 7,90 euro, abbiamo solo pochissimi pezzi, parliamo di un viola, un rosso, un rosso Valentino, un rosso acceso, un rosso Bordeaux, un verde fluo, bello acceso, poi, un verdone, un verde scuro, poi, ciclamino, ragazze, 7,90 euro, chiaramente, questi prezzi, solo per la diretta di oggi, non li avrete più avanti, insomma. Verde militare, e l'ultimo colore, che è questo celestino, ragazze, 7,90 euro, cioè, veramente, prezzo super, super scontato. Approfittate, perché tanto questi, si utilizzano sempre, sono sempre comodi. Alla Veneta, ah, stanno parlando di, di cibo, io, stavo leggendo, dico, alla Veneta, dico, che devo fare, non ho capito, vabbè. allora, aspettate un secondino, che voglio vedere un attimino, mamma mia, io sto morendo di caldo, Allora, niente, tutto tasce, ma i messaggi arrivano, sì, ci siamo? Ma, io, non lo so, qua. Io riprovo a collegarmi. Boh. le misure, Rosalba, sono, è una mantellina, Rosalba, non ha misure, è un coprispalle, è un coprispalle, verde gucci, per Rosalia, è un coprispalle, non ha misure, queste si può, sì, si può indossare, si può indossare, cioè, fino alla taglia, qualsiasi taglia, perché non ha, non ha cuciture, non ha nulla. Ciao Roby, chi è M? Eh, anche da noi, infatti, noi fa solo un po', il coprispalle, viola, per patti, pastilla, eccolo, ragazze, 7,90 euro, approfittate di questi prezzi, celeste, rosso acceso, ciao Claudia, benvenuta, allora, celeste, rosso acceso, rosso bordeaux, ciclamino per ceci, calvina ceci, eccolo, verde fluo, dicevo, poi, un altro pezzo, ciclamino, verde militare, Cristina Donatella Tribulzio, chiede di rivedere il primo articolo, che c'è colore panna, non abbiamo visto nulla, adesso, tra un po', li faremo rivedere, anche blu scuro, ragazze, anche se il modello cambia leggermente, però, comunque, ormai, sto qui, lo presentiamo anche questo, allora, 7,90, ragazze, il primo articolo, quindi, quella a 14,90, praticamente, ma è una nostra cliente? Cristina Donatella Tribulzio, no, io non l'ho mai sentita, io neanche la vedo, sinceramente, tanto, tra un pochino, rifaremo, un riassunto, di quello che, che abbiamo fatto vedere, finora, Anna Maria Morrone, buonasera a tutti, grazie, il pacco è arrivato, no, no, non siamo moscette, Robby, è che, ragazze, noi la mattina, cominciamo presto, poi fa caldo, si lavora male, ah, Gioia dice che è una sua amica, Cristina Donatella Tribulzio, ah, ho capito, ah, ok, ok, l'ho registrata io su WhatsApp, ho capito, Luisella, va benissimo, va benissimo, tanto, guarda, due minuti, e ripresento un attimino, quello che abbiamo fatto vedere, finora, ok, dice la regista da lei, sì, sì, mi ricordo, l'ho registrata, ok, allora, dai, vabbè, mi prendo un minutino per, per farle vedere, posso vedere le misure del camicione a poire, allora, menuccia Tonin, il camicione a poire, fa 120 fino a 142 di seno, fianchi 140 fino a 162, la lunghezza 96, ecco qui il camicione, bello, lungo, largo, e le misure sono queste che ho appena, l'ha letto, eccole qui, ok, ciao, Luigina, sì, ragazze, tanto siamo partiti un po' calmi calmi, oggi nella diretta, quindi, ogni tanto faccio una sorta di riepilogo, cosa mi fa fare? ecco, stiamo rifacendo tutto, Tornella, sto facendo rivedere qualcosina, allora, ragazze, siamo partiti con, in realtà, non è che abbiamo fatto, chissà che tre articoli, tre, quattro, allora, siamo partiti con la prima casacchina, a manica lunga, che è un cotone pesante, ma garzato, quindi, non un cotone estivo, ma neanche per il palo, il prezzo di questa casacchina, era di 14,90 euro, e queste sono le misure, seno 140, 180, fianchi 130, anche oltre 180, lunghezza 70, 14,90 euro, e abbiamo tanti colori disponibili, tra cui, il ciclamino, il, no, ciclamino, eccolo, il nero, poi, il blu scuro, questa che è un'altra nera, sì, ok, poi, il rosa, e il color jeans, questo primo articolo, a 14,90 euro, ok, lo appoggio qui, facciamo un piccolo riepilogo, per chi si è collegata ora, ripeto ragazzi, quello a 14,90, in cotone, pacco, è arrivato tutto bello, grazie mille, fa piacere, Luigina, sono contenta, allora, ciclamino, nero, blu scuro, rosa, e color jeans, queste sono quelle a 14,90, poi abbiamo presentato, il secondo articolo, che, secondo me, chi viene letto il messaggio, perché forse non viene la richiesta, menuccia vuole, il camicione a poa, sì, io non l'ho visto, per esempio, vedi, mamma mia, che disastro questi messaggi, Loretana Venditti dice, blu scuro per me, immagino sia la casacca, Loretana mi confermi, che è questa a 14,90, maglia, senza cerniera, ma non ho visto i colori, la volevo, allora, Giussi, fammi capire, se è la prima, quella a 14,90, che ho appena presentato, oppure, se è la felpa, che non è pesante, a 19,90, queste sono le misure, seno 120, 180, fianchi, stessa cosa, lunghezza 70, qui avevamo, Loretana ha confermato, qui avevamo tanti colori disponibili, prezzo 19,90, come vedete, con l'accetto sotto, un po' più sportiva, insomma, bordeaux, poi color panna, c'è anche panna, l'ho presa io, ah, stanno parlando tra di loro, la nera, poi, ottano, verde gucci, color coccio, color jeans, parla di quale parla? Di questa qui? Ah no, questa, Giussi, confermami che è quella di jeans a 14,90, i camicioni costano 19,90, Silvia, esatto, sì, adesso tra un minuto li faccio rivedere, perché sto riassumendo tutto, ragazzi, allora, il color coccio, il colore che ho presentato finora, e poi, il ciclamino, questi sono i colori della felpa 19,90, poi, vado avanti, il terzo modellino, è una casacca con cerniera, 19,90, a costine, comunque tessuto non pesante, sempre manica lunga, ma volendo per questo momento, anche tirarla su, con il bottoncino, seno 110, 170, fianchi 120, 180, lunghezza 75, Giussi ha confermato, perfetto, qui c'ho altre registrazioni, aspetta che giro anche, ok, eccoci qua, allora, colori disponibili, per quanto riguarda la casacca con cerniera, abbiamo il nero, poi, il ciclamino, il grigio scuro, color panna, color coccio, nera per me, Simona Ponturo, però specificami, quale nera per te, perché ragazze, io sto facendo, a me si vede male la telecamera, sì, un attimo, due secondi, adesso ritorno a forza, Simona Ponturo, mi specifichi, qual è il modello che vuoi nera, se è la felpa, se è la casacca, che sto presentando, ora con cerniera, o se è quella, il primo articolo a 14,90, quella con cerniera, perfetto, la nera aveva scritto, vero? Grazie, Simona, allora, poi, gli ultimi due colori, quella con cerniera, abbiamo il bordeaux, e il blu scuro, ok? Queste con cerniera, sempre comunque, a 19,90. Ragazzi, mi raccomando, descriveteci gli articoli, perché se no, non lo capisco. anche perché oggi, vedo un po' di confusione, con i messaggi, no, ma non lo capisco proprio io, infatti, arrivano pure un po' in ritardo, poi, per quanto riguarda, chi ci aveva chiesto, il maxi camicione, che è una via di mezzo, tra un camicione e un mini dress, quella con cerniera, fatta Alessandra, grazie, 19,90, seno 120, 140, fianchi 140, 160, abbondanti, lunghezza, circa 96, 116, perché comunque, c'è un po' di differenza, tra il davanti e il dietro, se avrà interessato, una felpa e un maglioncetto, con zip, grazie. Signora Rosina Attili, per poter acquistare in diretta, deve prima registrarsi, al nostro numero whatsapp, nera con cerniera, blu, basica, e se c'è anche bordeaux basica, allora, blu basica, dobbiamo ordinarla, bordeaux non ce l'ho, non c'era proprio, è Silvia, no? De Santis, Silvia De Santis, allora, qual è? nera con cerniera, Silvia, te l'abbiamo data, la chiamiamo così anche noi, la blu basica, basica, sì, blu basica, l'abbiamo ordinata, bordeaux non c'è, se vuoi c'è ciclamino, ah ma la blu ce l'ho, no, è nera, no, mi è rimasta ciclamino, rosa e nera, ok Silvia, lei la voleva? la blu l'abbiamo ordinata, la vorrebbe bordeaux, però bordeaux non c'era proprio, ah non c'era proprio, eh no, non c'era, vero? no, confermate, quindi se non c'era vuol dire che non c'è disponibilità, ma no, tutto che si blocca, eh speriamo bene ragazzi, allora, dicevamo, maxi camicione, mini dress, allora, righe fantasia numero 1, 19,90, numero 2, numero 3, poi c'è il 3 bis, e l'ultimo colore, che ho le stelline, che è il numero 6, questo è molto carino da portare, anche per esempio, con, con un cinturone, una cadenella, a me non ho provato a uscire di entrare, mi ha buttata fuori, eh, eh, lo sta facendo anche con me, io ho il mio personale, ogni tanto mi butta fuori e mi richiama, sì, dici, ciao, e io devo riuscire, come si fa, ma non state ho, io so, pensa un po', allora, poi, l'ultimo articolo, invece, che abbiamo presentato, era il prezzo scontato al 50%, 7,90 euro, sono dei coprispalle in chiffon, gli ultimi colori qui rimasti sono, il verde militare, il fucca, camicione 3 bis, maura quadri, attenzione, non lo so, controlla, io, però, boh, mettete qui, vedi un po', quadri, maura, no, ok, signora, allora, signora, maura quadri, per poter acquistare nella diretta, deve uscire un attimo, e mandarci il suo nome e cognome, la sua conferma, qui su whatsapp, 338 23 21 430, e infatti l'ha scritto, sono nuova, signora maura, la nostra prassi è che, prima di ordinare, deve registrarsi al nostro numero whatsapp, se lo fa subito, le teniamo da parte qualche minuto, il maxi camicione da parte, Emma Chianese ci chiede, il tessuto del camicione, è elastico? Un pochino sì, comunque è in viscosa, è leggero, allora, Francesca Luini, mi dai, per favore, una maglia rosa basica, una maglia nera basica, e il camicione con le stelline, ok, fatto, ce l'abbiamo tutte? Ce l'abbiamo tutto, sì, ci siamo su tutte, ragazze, ma come mai non mi state ordinando, prenotando la felpetta, è tanto carina, una cosina sportiva, per tutti i giorni, eccola arrivata la signora, è arrivata, mi sa di sì, perché la riconosco, maura Quadri, ma in realtà aveva già scritto, ma non avevo il suo nome, che cosa voleva? conferma il trebis, eccolo qua, ok, grazie signora Maura Quadri, adesso la registro ansio, sì, fallo, sì, perché sennò diventa sempre un problema, ok, perfetto signora Maura, sei di nuovo in linea, in diretta, la ringrazio, ho visto che lei già mi aveva scritto in precedenza, ma non avevo il suo nome, quindi non riuscivo a trovarla, ok, perfetto, me la butto, ma ti conviene, ok, allora, ciao Emanuela, ragazze, dicevo, nessuno mi ha prenotato, comunque pochissimi pezzi, sono andati via per questa, è bellissima questa, questa domani la metto, se non va sul sottotuta, questa con un ginsetto, un pantalone sportivo, tutto leggino, va bene, andiamo avanti, allora, proseguiamo, proseguiamo con un altro articolino nuovo, parliamo di una casacchina, anche qui, sembra una sorta di lanetta, un effetto un po' particolare come tessuto, come lo possiamo chiamare, visto com'è bello morbidoso, però sembra, sembra lanetta, però è quella molto leggera, sì, infatti, allora, il prezzo è di 19,90 euro, articolo nuovissimo, abbiamo seno e fianchi, che partono da un minimo di 100 centimetri, ma addirittura, ragazze, guardate quanto si allarga, quanto cede, arriva quasi a 180 centimetri, quasi a 180, la lunghezza, invece, è 75, le felpe, Maria, delle felpe ci sono tanti colori, eccoli qua, guarda, bordeaux, bianco, nero, ottanio, verde gucci, coccio, ciclamino, sono tanti i colori, magari tra un pochino li faccio rivedere, però ecco, l'ho fatti vedere proprio poco fa, allora, dicevamo, seno 100 fino a 180, fianchi stessa cosa, lunghezza 75, colori disponibili, abbiamo questo color ruggi, bordeaux, dice Maria Granatino, eccola per te Maria, tanto parlavi della felpa, giusto? ok? Allora, dicevamo, per me felpa, infatto Maria, si descrivete ragazzi, mi raccomando, fate le brame anche voi, nera, queste sono proprio carine, verde militare, ragazzi, voglio farvi notare, il filo di lurex, e la stellina, fatta così di pietre, molto carine, belle, quanto costano le verpe Ila, 19 e 90, sì, anche questa che sto presentando ora, 19 e 90, che fa? me butta, che significa che ti butta fuori, poi ti fai rientrare? sì, ma nel giro di tre secondi, ah, ok, poi, color beige, quindi ruggine, nera, verde militare, beige, turchese, e l'ultimo colore, che è un blu scuro, sono molto carine, soprattutto per il dettaglio, il filo in lurex, del collo, del fine manica, e anche nella parte sotto, della casacchina, ed è simpatica, anche questa stellina, che c'è davanti, eh, sì, Ila, sì, che succede? anche a lei la butta, no, Lidia Tulli, per me, maglia con stella, blu scuro, questa che ho in mano, Tulli, no? sì, Tulli, Lidia, ciao Ninfa, buon pomeriggio a te, verde militare, questa che stai presentando, va benissimo, eccola, chi è? Maria Granatino, Maria, ragazzi, anche nera è molto, molto carina, guardate che bella, anche nera, a me piace tanto, forse perché sul nero, si vede tanto la rifinitura, il lurex, e poi si vede anche, soprattutto la stellina, beige, color beige, per Elisabetta, ok, eccola, aspetta che c'è anche qualche messaggio, nera e ruggine, per Ninfa Dalia, lei è già nostra cliente, non ricordo, lo sai che non mi ricordo, il nome sì, mi sembra, sì, sì, quadri, allora, nera e ruggine, per Ninfa Dalia, Dalia, come vedi con la posta, quadri, ma un quadri, blu scuro, eh, però la devi registrare, tizzi, non ce l'ho? Sì, la devi prenotare, scusami, no, è 27, già sono alla fine, allora, ruggine turchese, per Chiara, per Piera Spotti, ce l'hai? E dove prendo? Allora, allora, facciamo così, mi dai un secondino, per favore? Non è quella turchese, la turchese ce l'ho, è la ruggine che mi manca, bisogna prenotarla, è Spotti, no? Il prezzo del camicione, signora Francesca Gianluca, è di 19,90, Allora qua, Elisabetta Tinelli, è quella, Crosato ha preso Beige, vero? Allora, eh, Sì, ok, confermo Elisabetta, per te hai la Beige, Luini Francesca, eh, Beige, Quadri era, e blu scuro, blu scuro, Maura Quadri, fatto, poi? Ninfadaglia, nera e ruggine, l'abbiamo messo, giusto? Sì, poi Carla Spotti, era ruggine e turchese, turchese c'è, la ruggine dobbiamo ordinarla, Spotti e Piera, era la ruggine da ordinare? Sì, ma l'hai chiamata proprio così? Sì, è arancio ruggine, ok, nera per giusi la piana, damelle, le misure ragazze, eccole qui, 100 fino a 180 di seno, fianchi stessa cosa, lunghezza 75, allora io ti ho dato giusi la piana nera, giusto? Perfetto, mi dai il fornitore, per favore? 27. Maria, ti sto rispondendo in modo veloce, perché sto in diretta, ok, però sto leggendo i tuoi messaggi, tranquilla, fine settimana facciamo tutti i conti, non ti preoccupare, mi sono registrata, è arrivato il messaggio di chi parliamo, Maddalena de Benedettis, mi sembra che è arrivato, ma Benedettico, già ce l'abbiamo, Francesca Gianluca pure si è registrata, arrivo a Maire, questa nera vuoi? Michela Piccola, sì, alla Francesca Gianluca su Facebook si è registrata, la signora che abbiamo salutato prima, mi fa sta a posto, Michela Piccola abbiamo data, poi invece chi ti è, devo controllare, Benedettis, ma a me sì, mi sembra che già l'ho vista la sua registrazione, Magdalena de Benedettis, ma noi ce l'abbiamo in Magdalena, ok, benedictis, era lei o è un'altra Benedetta, è un'altra? e ce l'hai? Non la trovo però, Magdalena de Benedettis, signora Magdalena Benedettis, mi manda gentilmente un altro messaggino su Whatsapp, perché non riesco a trovarla, sì, grazie Saretta, abbiamo messo anche la nera per Michela Piccolo, signora de Benedettis, non so per quale motivo non mi compare la sua chat, eccola, l'ho trovata, ah, perché lei l'ha scritto attaccato, ok, trovato signora Magdalena, tutto a posto, ok, perfetto, che voleva la signora Magdalena? si registrava, ok, perfetto, di controllare si era registrata, e sai perché non la trovavo? perché io scrivevo De Benedettis, come ho visto nella chat su Facebook, invece il nome è attaccato, per quello non mi compariva, ok, finito, sono rimasta un foglietto, non ce n'è più? allora, buttiamolo, no, praticamente nel mente abbiamo finito le casacche, io sono rimasta col fogliettino, Laura, pre, buongiorno, se si vuole ordinare qualcosa, che non fate vedere in diretta, ma c'è foto sul Facebook, si può ordinare anche su Whatsapp? assolutamente, assolutamente sì, signora Laura, noi abbiamo due modi per poter ordinare, o tramite le dirette del martedì, mercoledì e giovedì, sempre alle ore 16 come oggi, oppure tramite le foto che noi pubblichiamo sui social, lì ce le girate direttamente su Whatsapp, ed è la stessa cosa per noi, nessun problema, ok? Allora, io a questo punto andrei un attimino avanti, allora, faccio vedere un attimo il piccolo riassortimento che abbiamo avuto della casa, della camicia AV, visto il caldo, qua tocca ritirà fuori le maniche corte, la roba estiva, allora ragazzi, abbiamo riassortito, abbiamo, una signora ha scritto, mi sono rifiutata questa mattina, vi è arrivato, no, forse voleva dire registrata, non rifiutata, signora Marilena, ho visto la sua registrazione, adesso le ho mandato un ciao, ok? Allora ragazze, abbiamo avuto un riassortimento, per quanto riguarda la nostra camicia, scollo AV, a 14,90 euro, vi ridò le misure, per chi non la conosce, chiaramente è manica lunga, abbiamo il bottoncino, ma si può allungare, seno 130, 160, si adesso lo facciamo Elisabetta, 150, 170, lunghezza 76 davanti, 85 dietro, ecco qui le misure ragazze, così magari le vedete meglio, qua Elisabetta non c'è, vedi? ecco qui, che succede? tu ce l'hai Elisabetta Rossi, io non ce l'ho, io sì, no no, io non ce l'ho, viscosa, viscosa ragazze, questa è viscosa ragazze, chiaramente è un tessuto leggero, sdrotoli la manica, una manica per favore Silvia, sì, manica lunga, nera per Luigina Macurano, intanto, sì, eccola qua, manica lunga ragazze, dritta, semplice, eccola qui, bella, larga, ampia, allora ragazze, il tessuto è in viscosa, quindi leggero, come colori abbiamo il nero, poi il color coche, se serve sai che si possono prenotare, bianco, poi il fucsia o ciclamino, come preferite, eh sì, è vero Daniela, sì, sì, fatto Luigina, quello è quello che hai tu addosso, identico spiccicato, e questo è un, io lascialo ottaneo, eh però guarda, c'ho questo, eh quello è petrolio, questo è petrolio, allora cardinale e coccio, per favore, ragazze, i colori che vanno via si possono ordinare, Romina Mariotti vuole la camicia nera, ragazze, tutti i colori che vedete andare via, se li volete, possiamo anche prenotarli, quindi tranquille, allora, il nero, il coccio, si possono prenotare, fucsia per Roberta Cantinotti, anche il fucsia, ragazze, si può prenotare, poi ho il bianco, l'ottanio, il petrolio, il blu scuro, si è l'acqua, e il bordeaux, si può prenotare, il fucsia, il nero, e il marroncino color coccio, questi al momento invece sono i colori rimasti, prezzo 14,90, bianca e petrolio per Cristina Trivulzio, bianca, Trivulzio, di chi era amica, scusami, Gioia, ah di Gioia, eccolo qua, ah sì, perché ha detto che era quella che aveva registrato lei, me lo ricordo, poi Bordeaux, mettite la parentesi Gioia per piacere, poi Silvia Giacoglia Bordeaux, e Claudio Rosalba Giuliano vuole la blu e la nera, la blu te la posso dare, la nera la dobbiamo prenotare, aspetta eh, Giacoglia, eccola qua Bordeaux, e chi è? Allora, Giuliano Rosalba, già ce l'abbiamo eh, la blu te l'ho data, devi ordinargli la nera, allora, scriviti il nome di Rosalba, io mi scrivo, com'è a stessa Giuliano, non serve Claudio, tanto io ce l'ho registrata come Rosalba Giuliano, la vuole? La devi aggiungere nera, perché blu gliel'abbiamo data, ok, poi Romina Mancosu, scollo a V nera e Bordeaux, gli ho scritto, sono Giuliano Rosalba, posso? Sì, sì, allora nera più Bordeaux, esatto, poi Laura Pre, che è una nostra nuova amica, si è registrata, dall'inizio della diretta, come è scritto, mi aiuti il massimo a capire? No, proprio Laura Pre, P-R-E, Pre, camicia nera, sì, poi Trivulzio, camicia Bordeaux, ma non so se, sì, l'aveva presa bianca e petroglio, la vuole anche Bordeaux, ah, Bordeaux la devo segnare, quindi? Sì, Gabriella Marotta, nera, Marotta? Gabriella, sì, che, nera? Marotta, Gabriella, però io non la trovo, manca a me mi sembra, noi abbiamo Marotta, ma non Gabriella, signora Gabriella Marotta, ma lei è registrata? Poi, Ottanio per Luigina Macurano, ma l'Ottanio era questa? Eh sì, perché quell'altra era petrolio, Luigina Macurano, Ottanio, Aylen Ross, nera, abbiamo una marea, Tizia, ancora? Un attimo, sì, nera? Sì, Aylen? Sì, sì, poi? Aspetta, petrolio per Annita, d'oro, d'oro scritto attaccato, ragazze, 14,90 il prezzo di questa camicia, non mi ricordo il nome, Annita, no, no, il colore petrolio, ah, petrolio, sì, scusa, poi? Poi, non ve lo prendo niente, ho rimandato il messaggio, vi è arrivato, Maddalena del Benedictis, Maddalena, ti ho anche risposto, tutto a posto, a me serve solo Marotta Gabriella, com'era Gabriella? Senti, Tizia, tu sei in grado di girare un link a me, della diretta di Instagram, per Giovanna Bullo, se non gli si manda l'invito, lei non riesce ad entrare, ieri l'ha fatto Carlo, io oggi non so come, non posso farlo, non so su Instagram, ma si può mandare anche dal mio? Tu devi, è come se mandi un invito, Stefi, tu riesci a mandarmi l'invito, della diretta da Instagram, su Whatsapp a me, come ha fatto ieri Carlo? Un invito? Sì, il link della diretta, allora me lo mandi così, lo giro a Giovanna Bullo, allora, condividi su, Nicoletta, ma non ti sei persa tantissime cose, in realtà abbiamo fatto veramente, pochissimi articoli, finora, abbiamo fatto 4 o 5 articoli, in realtà molto poco, ah si va lì, ho capito, sì sì, ho capito, ho capito, allora, io ci sono, ah ma lo sono finito, le camicie? come non funziona? bellissimo, non lo so, allora facciamolo da qua, a chi si deve mandare? mandalo a me, che io lo giro a l'agliante, l'ho copiato, adesso? no, lascia la gialla, aspetta, lo invito da qua, ah, ok, allora ragazzi, la camicia che è appena finita, la camicia che è appena finita, 14,90, scollo a V, vi ripeto le misure, i colori li avete visti, se volete continuare a ordinarli, diteci il colore, e prendiamo la vostra prenotazione, seno 130, 160, fianchi 150, 170, lunghezza 76 davanti, 85 nella parte posteriore, ok? buttiamo anche queste, perché tanto sono finite, però si possono ordinare, ve le hai mandato, Mairee? ok, grazie, ti è arrivato? sì, lo giro alla nostra amica, giù, bullo, Giovanna, ok, fatto, è arrivato ok? sì, sì, ok, ma lei sempre me la fa entrare, pure ieri, mi sa che era lei, sempre lei, però me l'ha mandato Carlo al volo, ha fatto, io da qua non lo posso fare, perché non posso entrare pure su, ah, l'hai fatto con il privato tuo, ecco, me l'aveva girato pure Nicoletta Ippolito, grazie Nico, è arrivata Maira, me l'aveva mandata anche lei, ecco Giovanna, vuoi che ti manda anche questo? sì, quello mandamelo, ragazze, Maira mi sta mandando una bella foto di un ometto molto carino, ma che fai, fai vedere la foto? sì, falla vedere anche su Instagram però, tiè, tiè, mi è venuta, mi si è sosseccata le cose, le pupille gustative, quelle gustative, grazie Nicoletta, allora, sì, domani vi mando un pensiero da Luano, per la vostra disponibilità, grazie Nella, a Nella Luano sta, io ce l'ho i parenti a Luano, ecco, è entrata a volo, entrata? ok, Giovanna, tutto a posto, sì, però io non capisco perché bisogna mandargli l'invito ogni volta, ma chissà perché, vabbè, sei troppo sofisticata Giovanna, eh, che vuoi l'invito, ma che bisogna invitare, che vuoi la partecipazione Giovanna, a bomboniera no però, eh, poverina, che è uscito qua, che è uscito qua, che ti è uscito, qualche cosa, che è uscito, è arrivato quel gnocco da paura là, ma chi è arrivato? va bene, Sara Consiglio dice, vabbè, da domani ve ne mando pure io, anche la notte dice, le dovete mandare, non solo in foto, allora ragazzi, cambiamo articolo, e ti è arrivata Marotta Gabriella, per favore, se no, chi è arrivata? Marotta Gabriella, no, 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 io non ce l'ho la signora Marotta, e allora lo cancello l'ordine, eh, sì, io, signora Marotta Gabriella, non abbiamo ricevuto la sua conferma, quindi, niente, leviamo l'ordine, allora, ragazzi, adesso invece passiamo ad un articolo, il marrone è il modello gas, ah, sì, l'ho messo tutti, andiamo su un articolo invece in saldo, allora, questa è una casacchina scontata da 24,90 a 14,90 euro, ho soltanto 7 pezzi, vado con le misure, partiamo da un 116, comodo, tessuto morbido, elasticizzato, arriviamo a poco più di 130, sui fianchi invece partiamo da circa 130, e superiamo i 160, lunghezza 76, qui abbiamo la versione Blue Royal, poi abbiamo la versione Fuchsia, ripeto ragazze, da 25 euro, scontate a 14,90 euro, quindi Blue Royal, fucsia, ciclamino, lo mio cos'è, ah, le misure non vi servono, 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 turchese, turchese, vabbè, facciamo che è turchese, anche perché se poi è troppo alto, non ci arriviamo, è nero, viola, beige, ragazze, volevo farvi notare quanto è simpatico anche il discorso di avere il doppio strato, perché sotto abbiamo lo chiffon, e lateralmente abbiamo questo laccettino che si può regolare anche l'altezza della casacchina, dicevo, beige e rosso, rosso bordeaux, oddio, non è tanto bordeaux, è diventata come te l'ascetto, l'ascetto, è l'ascetto, è perché a volte si vede il Laira, ma almeno io sono straniera, allora ragazze, ripeto, sconto da 25 euro a 14,90, colore nero per Marilena Bianchini, Marilena è già la signora registrata, vero? eccola qua, la nera, aspetta ho chiamato, eccola qui, questa, sì, fatto Marilena, sì, sì, quello che avevi detto prima, mi sa, sì, sì, ce l'ho, sì, perché riconosco pure l'icono, è uguale a quella di Whatsapp, ce l'ho, però dopo me la scrivo pure, allora, come non sa nevi un, la 2 per Rosalia Cardinale, la 2 intendi la fucsia, Rosalia, confermami per favore, immagino di sì, giusto? ah, ma la 2, beige per Salinaro, la 2 è quella, ma ha visto i numeri allora, allora no, la 2 è questa, mi dai la beige per Salinaro? Salinaro, la beige, eccola, e mia, nera e rossa, Giuseppina Arato, è andata via la nera e rossa, la 2, Rosalia Cardinale, però ha detto di sì, era quella la mia numero 2, Rosalia, giusto, il 2 sulla stampella, ok, se lo metti tagliato, ci arrivi tranquilla, Tiziana, allora, ma che è questa cosa? però sull'alti, su questo ti dò, Cardinale dice no, la fucsia, allora, allora la possiamo dare a Giuseppina Arato, non riprenditela, Giuseppina Arato voleva la rossa, Giuseppina Arato, hai avuto la casacca, tranquilla, e avevamo fatto un piccolo errore, allora ragazze, io sono rimasta, con, la numero 1, che è blu, la numero 4, che è viola, le hai messi i prezzi, e la numero 6, che sembra un turchese, un verde acqua, c'è un po' all'interno, un po' di colore, così, tre pezzi, ultimi, sì, ma io sto a leggere là, non vedo neanche i cosi, sto a pensare, che devo registrare, sto pensando a lui, è traiato, no, sto a pensare i nomi, non sono come a voglia, vuoi vedere se lo trovi nel letto, allora, no, eccola qua, ci sta, ok, l'ho registrata, signora Marilena, così la troviamo subito, allora, ragazze, quindi, scontate da 25 a 14,90, ultimi tre pezzi, ragazze, non me li lasciate, abbiamo la fantasia numero 1, la fantasia numero 4, e la fantasia numero 6, ultimi tre pezzi, poi, proseguo, vado avanti, vado con, delle mantelle, allora, diciamo, chiamerei poncio, più che mantelle, Silvia, è seria, mica come noi, sì, 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 e basta, ma che è, anche la blu e marrone, dice Giuseppina Rato, la blu e marrone, quella, ah, eccola, questa qui, eccola Giuseppina, fatto anche questa, Nicoletta dice, non mi deviate la Silvia, che c'ha marito, brava Nicoletta, difendimi, io devo essere seria, ma anche io, come avveni, che l'unica è, su io, guarda, allora ragazzi, Maxi Poncio, bello pesante di lana, scontato del 50%, parliamo di 39,90 euro, non vi dico una bugia, eccolo qui, scontato al 50%, 19,90, ne ho soltanto tre pezzi, la versione ciclamino, la versione ottaneo, e la versione marrone scuro, consigliate ragazze, lo so che fa caldo, lo so che magari, Gloria Giovannini, sì, ti leggiamo Gloria, allora, lo so che fa caldo, insomma, però comunque, scontate del 50%, sono delle belle occasioni, approfittate, ripeto, non ti posso, perché arriverà il freddo, eh, ma arriva, ma quando arriva, tanto arriverà tutto insieme, passeremo da maniche corte, leggeri, a 20 gradi in meno, e col maglione, allora, non abbiamo messo le misure vere e proprie, perché abbiamo scritto, oltre 180, se ne fianchi, lunghezza 87, Nicoletta Longhi, mantella, zebrata, fucsia, brava Nicoletta, eccola qui, andata, sì, 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 87 è la lunghezza, ragazzi, approfittate, prezzo 50% di sconto, terra e ottaneo, ultimi due pezzi, noi qui andiamo ancora al mare, ci credo Giulia, anche noi, non è che ci andiamo lontano, allora, ultime due mantelle, lo so, che ripeto, è vero che fa caldo, però è vero pure, che magari un articolo di sconto, conviene sempre approfittare, insomma, ok? Allora, io intanto vado avanti, allora, altro sconticino, qua a Palermo fa caldo al mare, immagino, allora, ragazzi, altro piccolo sconticino, casacchina da 19,90, scontata a 14,90 euro, casacca in Ligra, con la sua sciarpina abbinata, abbiamo soltanto questi pochi pezzi, allora, le misure sono, sia di seno che di fianchi, da 126, superano anche 180, quindi sono molto abbondanti, molto grandi, la lunghezza 75, ripeto, articolo in sconto, a 14,90 euro, abbiamo, un pezzo rosso bordeaux, uno acceso, rosso acceso, rosso valentino, un fucsia, poi, un celeste, un turchese, chiamiamolo turchese, poi, verde militare, un verde militare che va a Anna Tumeo, che ci ha appena chiesto, e un ottanio, ripeto ragazzi, 14,90 euro in sconto, ultimi pezzi, diciamo che è un fine serie, ripeto, ottanio, turchese, fucsia, rosso acceso, rosso valentino, e rosso bordeaux, scontate a 14,90 euro, le misure partono da un giroseno minimo di 126, arrivano a superare i 180, stesso discorso per i fianchi, la lunghezza 75 centimetri, 7,5, casacca rosso acceso, per i spotty, ok, grazie Carla Piera, sono entrata ora, quelle righe sono camicioni, sì Stefania, eccoli qui, sono a 19,90, sono dei maxi camicioni, diciamo quasi mini dress, a 19,90, queste sono le misure, eccole qui, tre fantasie rimaste, la numero uno, la numero due, e la numero 3, non si sono lette, seno 120, 142, fianchi 140, 162, lunghezza 96, 116, Gloria Giovannini, casacca Ottanio, eccola qua, fatto Gloria, ce l'abbiamo Gloria? Sì, Giovannini, Ninni, quant'è? 14,90, ce l'hai? Sì, 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 l'ho registrata, perché ci ho già parlato, però non l'avevo memorizzata con il nome, verde militare per terra, Anna, l'abbiamo già fatta, vero? Anna Tomeo? Sì, sì, ok ragazzi, allora questa l'abbiamo fatta vedere, vado avanti, allora ragazzi, per quanto riguarda la casacchina scontata a 14,90, sono rimasti tre coloni, la turchese, la fucsia, e la rosso bordeaux, ripeto, in sconto a 14,90, vestibilità fino alla 60, poi passiamo invece, agli ultimi tre pezzi, per quanto riguarda la tuta, con disegno maculato, abbiamo solo il verde gucci, il blu royal, e il nero, sono gli ultimi tre pezzi, piccolo sconticino, scendiamo a 29,90 euro, ripeto, ultimi tre pezzi, perché i modelli cambiano sempre, allora, seno, 130, addirittura fino a 170, fianchi, stessa cosa, 130, 170, lunghezza 68, questo per quanto riguarda la felpa sopra, considerate ragazze, questa è garzata, ok? Per quanto riguarda invece, il pantalone, eccolo qua, sempre con il disegno laterale, abbiamo, la vita che parte da 80, arriva a 132, fianchi 114, 160, solo tre colori disponibili, ripeto, prezzo, piccolo sconticino, per fine serie, è di 29,90 euro, verde gucci, blu royal, eccolo qui, vi faccio vedere anche il pantalone, e nera, eccolo a parte, si, è gacciata, si, non è gacciata, hai detto che è gacciata, che è gacciata, non è gacciata, è quasi incazzata, gar, 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 gargata, gargata, no gacciata, eh vabbè, l'ho detto bene, no, allora ragazzi, 29,90, ripeto, nera, blu royal, e verde gucci, nera per Stefania Sirianni, si metti lo prezzo per favore, che c'è lo sconto, poi, verde gucci, e blu royal, non te li scrivo, Stefania ha preso la nera, adesso andiamo avanti, bella piccoletta, poi, due maglioni ragazze, soltanto due colori disponibili, belli di lana, stupendi, 140, 180 di seno, 120, 180 fianchi, lunghezza 76 davanti, 97 dietro, prezzo scontato, consigliate ragazzi, questi maglioni sono in pura lana, da 29,90, ultimi due pezzi, a 19,90, solo un pezzo, blu royal, e un pezzo, giallo fluo, solo due, ripeto, vestibilità, anche fino alla taglia 60, perché, oltre 186, nei fianchi, questo, significa come taglia, la lunghezza, dai 76 davanti, ai 97 dietro, ripeto, prezzo scontato, da 29,90, a 19,90, solo due, giallo e blu royal, solo due, poi, io sono veloce, perché intanto faccio vedere, continuo, i messaggi arrivano, tu sei ferma Stefania Sirianni? ok, allora, poi proseguo ragazze, e andiamo su un altro genere, una casacchina in viscosa, con il fiore davanti, il disegno, scontata da 19,90, a 14,90, in questo caso, abbiamo le misure, che vanno da, il seno, da 116, a 116, per Giusy Aureliano, sicuramente, il maglione, sì, sicuramente, questa è appena arrivata, 19,90 il maglione di prima, fatto Giusy, abbiamo messo il maglione blu, blu royal, allora, dicevo, la casacchina che presento ora, 116, 160 seno, fianchi, 116, 160, quindi uguale, lunghezza, 70, 14,90 in saldo, ne ho due pezzi neri, un pezzo verde Gucci, uno rosso Bordeaux, e uno grigio, ok? Quindi, grigio, rosso Bordeaux, verde Gucci, e nero, due pezzi, scontate ragazzi, a 14,90, questa è una casacchina, in viscosa, ok? Quindi, non pesante, diciamo che per, per questo periodo, per tante cose, con questo disegno carino davanti. Maura Quadri, vuole il giallo. Ecco, grazie Monica, perché a noi, non è proprio arrivato il messaggio, ho detto io che i messaggi non arrivano, ah sì, ma volevo tenere per ricordo le misure, maura, se mi senti, insomma, confermato, ti abbiamo messo il maglione, grazie Monica, io non so, guarda, che dobbiamo fare questi messaggi, ma potrò andare avanti, possibile queste casacchine scontate, mi sembra così strano, guarda, veramente, queste di solito vanno a ruba, Maria Antonietta Buono, ha messo i puntini, eh, Maria Antonietta, dici, ecco, mo' che ha scritto, grazie Monica, la vediamo, Maura Quadri, si vede alle volte sì, alle volte no, Maria Antonietta, scrivici che cosa volevi, hai messo i puntini, ma non so, a cosa ti riferisci, grigio per Michela Piccolo, ok, eccola Michela, non ci credo che queste casacchine non vanno via in sconto, mi sembra molto strano, perché sono cose facili, veloci, comode per tutti i giorni, non ci credo, ragazze, mi soffermo un minutino su questa casacchina e poi vado avanti, ripeto, scontata a 14,90, mi rimane il Bordeaux, il Bordeaux, signora Gabriella Marotta, aspettavamo la sua conferma, era lei che aspettavamo, non l'abbiamo ricevuta su Whatsapp, e nera, ultimi 4 pezzi, ultimi 4 pezzi, 14,90 euro, seno e fianchi partono a 116, e arrivano a 160, la lunghezza 70 centimetri, Sì, infatti li stacco, perché sembra strano, oh, vabbè, nemmeno io leggo i messaggi, vedi, infatti, vedi, scrivono pure loro, sì, Maria Antonietta, ma tu volevi prenotare qualcosa? No, era per far salire l'amministra, Gloria Giovannini, verde Gucci, eccolo, Sì, alle 6 ci conviene fare una piccola pausa, così pubblichiamo la diretta, e vediamo se va meglio, Stefania Sirianni dice anche la tuta verde, eccola Stefania, scrivi 29,90, grazie, Ciao belle bimbe, mi sono molto mancata, sì, Roberta, tantissimo, soprattutto a me, non è vero, Robby, ma tu lo sai che ci manchi sempre, che non lo sai, infatti ti dicevo, ma com'è che ieri non c'era Roberta, mi sentivo un vuoto dentro, e andavo pranzato, anche perché l'ha detto che erano 6,10, meno un quarto doveva fare la merenda, allora ragazze, cambiamo un attimino articolo, allora di questa a 14,90 è rimasto il nero e il rosso bordeaux, ripeto scontata a 14,90, per quanto riguarda invece la tuta in saldo a 29,90, l'ultimo completo, eccolo qui, l'ultimo pezzo, Blue Royal, adesso andiamo avanti, ho tre pezzi per quanto riguarda questa maxi casacchina a pipistrello, tessuto licra, prezzo 19,90, ho solo tre pezzi, allora, le misure del seno sono 140, oltre 180, fianchi parte da 94, perché comunque va a stringere sui fianchi, fino a 140, lunghezza 73, 19,90, ragazze, fantasia, fantasia con il viola, sì, viola, fantasia con il verde, e la fantasia con il nero marrone, 19,90, molto carina, stile pipistrello, morbidosa, tessuto in litra, quindi non pesante, adatta sicuramente al caldo che sta facendo in questi giorni, quindi ripeto, tonalità con il nero marrone, il verde, e quella sul violetto, verde per Monica Ferrara, ok, eccola, il prezzo, 19,90, nera per rosa grande, eccola, ma che fa, poi mi dai quelle maculate lì sopra, sempre su questo genere, Bordeaux, che è Bordeaux? ah, Bordeaux forse quella di prima, Elisabetta Crusato, mi confermi che la Bordeaux intendi questa, questa 14,90, hai ti? allora ragazze, vi è rimasta solo una, con il violetto ciclamino, che è pure il live, ma è nero, ovviamente c'è un po' di tutto, in questa casacchina, guardate che bella, l'ultimo pezzo, 19,90, Tonina Magliano, nera, grazie, ho scritto subito, oddio, ma cominciamo con questi messaggi che non arrivano, non ce l'ho manco io, io pure non ce l'ho, Tonina purtroppo non c'è comparso, mi dispiace, che devo dire, Tonina, guarda, io sono mortificata quando non leggiamo i messaggi, ma non compare proprio, su nessuno dei nostri, Donatella, nocentina, nero e marrone, no, è andata via ragazze, il pacco è arrivato, il viola tutto ok, perfetto Roberta, ragazze, l'ultimo pezzo che mi è rimasto, è questa con il viola ciclamino, l'ultimo soltanto, chi magari non è riuscito a prendere l'altro, anche questa è molto carina, quello di Tonina non ce l'ho nemmeno io, infatti, no, io non lo vedo proprio, sono andata risalita anche con i messaggi, ma non compare, allora, poi ragazze, altra alternativa, anche qui, però abbiamo delle misure molto più grandi, qui siamo oltre 180 di seno, oltre 170, questa dice Elisabetta Tinelli, vuole questa, Elisabetta mi confermi che vuoi questa, non ho capito con questa cosa dici, però, quella non è Bordeaux, lei ha piato quella lì, Bordeaux, Elisabetta, perdonami, tu vuoi questa qui ciclamino, non Bordeaux, non questa qui con il fiore, giusto Elisabetta, mi confermi, che volevi quella che avevo io in mano poco fa, scrivi maglia fiore, oppure casacca fantasia, e noi capiamo, è lì, sì, perché sennò così non capisco, allora, ragazze, poi abbiamo questa versione maculata, al prezzo di 19,90, scrive per me, Elisabetta, dovete dare una spiegazione, perché se scrivete per me, io non capisco, i messaggi a noi arrivano tardi, ragazze, ascoltatemi invece di scrivere, i messaggi a noi, arrivano in ritardo, rispetto alle immagini, quindi se voi scrivete mia, tua, eccetera, eccetera, noi magari abbiamo già un'altra cosa in mano, quindi non sappiamo, Elisabetta Crosato, scrivimi se vuoi, la casacca con il fiore Bordeaux, o quella a fantasia che c'è il viola, sì, dice, ok, allora è quella lì, a posto, fatto, Floriana, io adesso ti leggo, sì, se è scritto qualcosa fino a mo', non lo so, allora, la stefaglia Bellini, la stefaglia Bellini, eccola qua, opera, 19,90 tizi, questa è qui, sì, abbiamo fatto, Giorgia, grazie, allora, ragazzi, la maculata, sempre 19,90, abbiamo la verde Gucci, e l'ottanio, l'ottanio ne ho due pezzi, fatto Elisabetta, adesso abbiamo capito, però ragazzi, se quando prenotate le cose, date un minimo di spiegazione, ascoltate la descrizione, ascoltate magari come le chiamiamo noi, in modo tale che scrivete proprio quello, così non ci sono fraintendimenti, esatto, e andiamo avanti in modo scorrevole, allora, verde maculata, e ottanio maculata, prezzo 19,90, ripeto le misure, oltre maglia maculata verde Gucci, per Floriana Rizzo, brava Floriana, ottima descrizione, poi mi rimangono le ottanio, eh Elisabetta, ti sono scritto tante volte, mia, mia, ma quello non è specificato, quello ci è arrivato a noi, a noi ci arrivava, mia, 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 mia non è una specifica, capito, devi scrivere, come in questo caso, abbiamo detto, maculato ottanio, magari ha scritto, scrivi maculato ottanio, ok, allora ragazze, dice, Floriana, l'abbiamo messa per te verde, Gucci, mi rimangono due pezzi, ottanio, ultimi due, ok, che tessuto è la casacca maculata? questa, è sempre un misto tra cotone e viscosa, non è pesante, non è felpata, ok, 19 e 90, 19 e 90 ragazzi, solo ottanio è rimasto adesso, brava Ellie, cosa? dice ok, allora, poi passiamo a un altro articolino, scontato, a 14 euro e 90, solo due pezzi, seno, 126, si può allungare, allargare, fino a 170, fianchi da 116, a 160, lunghezza, 67, quindi non sono estremamente lunghe, prezzo scontato, 14 e 90, ne ho un pezzo, che è più viola o più ciclamino? ciclamino, ciclamino, mamma mia, ciclamino, e verde, ok, solo due pezzi, scontate a 14 e 90, eh, lo so Elisabetta, infatti non si capisce nulla, allora, allora, due pezzi, ciclamino, e verde, 14 e 90, mia maculata ottagno, per Daniela, per Diasi, grazie Daniela, fatto, questo era sempre 19 euro, ce n'è un'altra maculata ottagno, eh, per chi, fosse interessato, la maculata ottagno, 19 e 90, quelle che sto presentando ora, a fantasia, 14 euro e 90, solo due pezzi, verde e ciclamino, mamma mia, quando non arrivano i messaggi, però, guarda, è deleterio proprio, verde e fiorato, ok, per tirivulzio, ma io ti ho detto, andati fuori, allora, proseguo, questa aveva fatto 14 euro, avevo pure scritto, allora, due casacchine, in caldo cotone, in quei tessuti, un po' più pesanti, un po' più, eh, pesantoni, da 24 e 90, a 14 euro e 90, abbiamo soltanto, due pezzi, il marrone scuro, e il blu scuro, queste sono le misure, eccole qui, seno 134 fino a 180, perché è un po' più di strello, fianchi 110-150, la lunghezza 66 centimetri, soltanto due pezzi, ripeto, scontate, da 24 e 90, perché, ripeto, questi sono quelli in caldo cotone, un po' più pesanti, blu, per Stefania Sirianni, bordeaux fiorato, per Silvia De Santis, quindi sarebbe questa di prima, eccolo Silvia, allora, tizzi, quella era a 14 e 90, quell'altra pure, è vero Maria, allora, mi rimane l'ultima, in marrone scuro, l'ultimo pezzo, l'ultima, solo, sola, 14 e 90, marrone costella, per Aylen Ross, grazie cara, Maura è andata via, la maglia marrone, finite, e poi, andiamo ancora con altri sconti, Allora, andiamo con, una casacchina, casacchina, 120, 180 seno, fianchi 130, 180, lunghezza, 69 centimetri, ragazze, questa è scontata, solo, per la diretta di oggi, a 14 euro, e 90, abbiamo, la versione, beige, numero 1, versione, numero 2, base nera, versione, numero 3, ciclamino, versione, numero 4, viola, numero 5, blu, poi, la numero 6, cambiamo modellino, cambiamo fantasia, maglia marrone, stella, questo è quello di prima, ok, non c'è, numero 7, base nera, con i disegni, fucsia, ragazze, solo per la diretta di oggi, ripeto, scontate, a 14 euro e 90, anche questo è un cotone, direi un caldo cotone, però non pesante, ok, vi faccio rivedere un attimino i colori, numero 7, numero 6, 7 per Maddalena Pagano, allora la 7 è andata via, poi numero 6, numero 5, numero 4, numero 3, numero 2, e la numero 1, ok, 14 e 90 scontate, ragazze, vado, 4 per Stefania Sigliandi, ecco la Stefania per te, la 4, ne hai un'altra? Antonella la 4 è andata via, non ne ho un'altra, mi dispiace, Antonella, sono rimasta con la 1 che è beige, poi la 2 che è nera, la 3 che è ciclanino, la 4 che è blu, eh, la 5 scusate che è blu, e la 6 che è ombaio, 2 per Maria Livigni, ce l'abbiamo? Livigni Maria? Io non ricordo, c'è anche la 3, Antonella Criscuoli gli dai la 3, Livigni Maria però io non la trovo, ci deve confermare, non ce l'ha la signora Livigni Maria, deve prima registrarsi, la 3 è per Antonella Criscuoli, 6 per Galligaris, la viola era per Tonina Magliano, Tonina scrivimi in privato, perché noi non vediamo i tuoi messaggi, non ci posso far nulla Tonina, mi spiace, 6 per Claudia Galligaris, Tonina scrivimi su Whatsapp, su Whatsapp, quando vedi un articolo, scrivimi subito su Whatsapp, tanto ce l'ho aperto davanti, lo facciamo con chi come te, non leggiamo i tuoi messaggi, voi ce l'avete Tonina Magliano? No. Eh, io neanche, a me non la vedo proprio. Adesso, sopra a Galligaris, ho scritto 6 volte viola, allora la 3, la 3, non c'è la 3, andate lì, non posso, non ho il telefono, sono a letto, oh mannaggia, mi dispiace Tonina, come facciamo? Di chi era la 3? Eh, non c'è problema. Mi fuori. Eh, no, non ce l'abbiamo. Mi spiace Tonina, non so che dirti, perché i tuoi messaggi non si vedono, non si vedono, se nessuno ce li suggerisce, chiaramente noi diamo via le cose, quindi non so come fare, vuoi scegliere tra la 2, che è nera, tra la 5, che è blu, e, oppure tra la 1, che è beige. Tonina, non so come aiutarti, io ti potevo aiutare su WhatsApp, però così non ci riesco, perché non vedo i tuoi messaggi, la merce va via, poi, eh, non posso levarla a chi la ordina, perché poi, sembra una cattiveria, insomma, andare a levare le cose, a chi l'ha prenotata, insomma, a chi abbiamo detto il nome, tutto quanto. Ragazze, ultimi 4 pezzi, ok? Beige, nera e blu, 14,90 euro, vi ricordo anche l'ultima casacca maculata, 19,90, molto grande, Ottanio, Alessandra Micheli, puntini, che vuol dire? Ha salito il messaggio, e di chi? Così? Di Tonina Maiano. Ah, ok. Grazie Tonina, troppo buona. Allora, ragazze, altro articolo in sconto, mi sono registrata la numero 2 per me, oddio, non ho scritto il nome, Maria Livigni, sì, fatto, la numero 2, eccola qua, aspetta che la saluto, grazie, ok, signora Maria Livigni, l'ho salutata, e le ho scritto anche le modalità per quanto riguarda i costi della spedizione, sullo stand sono camicia, strisce, bianca e nere, Maria Alpaia, sono dei maxi abiti, maxi camicioni, a 19,90, è rimasto il numero 1, strisce numero 1, poi il numero 2 e il numero 3. Che cos'è iPhone? Ti fa piacere Tonina, che ti fanno i complimenti, lo sai che io ti abbraccio forte forte. Allora, ragazze, attenzione, cambiamo articolo, sono le stesse misure, grossomodo, sì, più o meno. Allora, qui andiamo su delle maxi t-shirt, guardate che grandi, belle, ampie, allora, ho il primo articolo scontato, eccolo qui, guardate che grande, a 14,90 euro, ho solo due pezzi, le misure sono, seno 140, oltre 180, perché è un po' più di strello, fianchi 130, 180, lunghezza 82 davanti, 90 dietro, solo due pezzi, la versione ottaneo, e la versione verde militare, ne ho solo due ragazze, 14,90 euro, verde militare e ottaneo, poi, per quanto riguarda invece, verde militare per sala consiglio, eccola, 14,90, quindi rimane solo l'ottaneo, poi abbiamo invece, quest'altra con le stelline, 150, 180 seno, fianchi 120, 180, lunghezza 88, stelle blu, 14,90, poi, l'ultimo modello, seno 140, 180, ottaneo per fatti montigli, eccola, Sabrina Dodi, l'ottaneo è andata via, è rimasta la blu con le stelle, a 14,90, ed è rimasta la color ruggine, con la scritta vintage, sempre 14,90, ultimi pezzi, quindi blu scura, e ruggine, 14,90, hanno lo stesso prezzo, scontato, ultime due, scusa Silvia, mi puoi ripetere le misure della maglia amaculata che ho preso? non so qual era, Floriana, se parli di questa, guarda, sono molto grandi, superiamo i 170 di seno, e i 160 di fianchi, è molto ampia, molto comoda, stai tranquilla, insomma, la vestibilità è grande, ok? allora ragazze, rimangono solo due pezzi, eh? blu con le stelle, o ruggine, con la scritta vintage, 14,90, in sconto, poi, blu per Maria Arpaia, stelle blu per Bellini, mia ruggine per Michela Piccoli, Stefania, per te le stelle non sono arrivate, perché è arrivata prima Maria Arpaia, piccolo Michela, che aspettiscono. ok allora vabbè ragazzi ultimo articolo poi ci fermiamo due minuti facciamo un momentino di pausa perché visto che internet facebook oggi è un po' ballerino soprattutto con i messaggi vogliamo fermarci un minutino pubblichiamo la prima parte della diretta e poi ci ricolleghiamo nuovamente vi faccio vedere l'ultimo articolino di questa prima parte di diretta abbiamo questa casacchina in caldo cotone con sembra un po' stile Picasso molto carina seno parte da 100 fino a 150 fianchi idem lunghezza 65 prezzo scontato 14,90 euro abbiamo lime panna panna rosa e l'ultimo colore che è un bordeaux questo è un modellino che non possiamo diciamo riassortire in questo momento quindi lo scontiamo a 14,90 euro rosa panna lime e bordeaux e bordeaux quattro pezzi quattro pezzi disponibili ripeto le misure di sede e fianchi sono a partire dai 100 centimetri fino a 150 la lunghezza 65 lime per cantinotti cantinotti sonia demitri rosa 14,90 ok ragazze sono rimaste panna e bordeaux ultimi due pezzi 14,90 e poi chiudiamo 5 minutini con la diretta vediamo sì Elena per Daniela De Biasi bordeaux l'ultimo pezzo panna finite ragazze l'ultima dai prendiamo anche l'ultima così chiudiamo 5 minutini con la diretta e la pubblichiamo così siamo un po' più tranquilli visto che oggi facebook fa un po' di capricci ok ragazze l'ultimo pezzo casacchina scontata a 14,90 l'ultima che io l'ho chiamata Bece ma non è più Tortora sembra quasi Tortora vero Maria Volpe dice tessuto è una sorta di caldo cotone ok con l'effetto un po' la netta però non proprio pesante pesante non eccessiva ok l'ultimo pezzo ragazze dai così chiudiamo un attimino con la diretta ma pubblichiamo questa prima parte e riprendiamo con la seconda parte tra pochi minuti mi raccomando non vi allontanate troppo dai chiudiamo un attimino dai così siamo più tranquille ragazze ci vediamo tra 5 minuti grazie a tutti grazie a tutti